Ciao ragazzi, questa sera giocare il Foggia contro il Messina sul Raysport alle 20.30 Come sostegno siamo andati a scovare nella scuola i ragazzi chiedendoli se guardavano la partita oggi Queste sono le nostre risposte, vi lascio al video, buona visione Bravo, bravi Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, seguiteci sul sito e sulla pagina facebook che trovate giù in descrizione Dal sotto sopra tv è tutto, zaffoggio